La prima gara dell'edizione femminile dei campionati europei di Occhè su pista Under 17 che si stanno svolgendo qui a Correggio, le partite sono tutte in diretta sul canale YouTube ancora il Portogallo, la manovra con Teixeira, Teixeira ancora tenta l'alza schia ancora la formazione portoggiata con Anna Silva che tenta il tiro di giro e riesce con un giro porta a trovare la via della rete ancora la formazione portoghese con Anna Silva che tenta il tiro fermata, attenzione però alla riconquista da parte di Anna Silva c'è il fischio del piuttore di gara, la pallina che esce ancora a Rute Santos la formazione inglese non è mai riuscita fino a questo momento a creare problemi alla istruire azioni d'attacco, ancora attenzione questa opportunità per la sequenza il nuovo tiro di rigore, pronta ancora l'opportunità per il Portogallo con Rute Santos che sono proprio disputate ogni giorno qui in aprieta al paladarone di pietra, conzione qui nei baro contro dietro per Diana Moreira attenzione a questa pallina vagante in area Anna Silva, Rita Monteiro, Monteiro tenta il tiro a certi tra la propria disposizione la nazionale dell'Inghilterra ancora c'è il tiro, c'è il tiro, c'è il tiro, c'è il tiro Mariana Teixeira, Anna Silva sono le quattro giocatrici in movimento trova subito il gol il Portogallo con Mariana Teixeira nove secondi, Mariana Teixeira, Anna Silva sono le quattro giocatrici in movimento trova la squadra portoghese che ci prova con il... ancora ci prova l'Inghilterra che vedete cerca il tiro e c'è il gol la deviazione con il... col piede, eccola qua, l'ha vista proprio nel replay la partita, 1-2-0 per il Portogallo sento da parte di Diana Moreira qualche protesta da parte dell'Abitro attenzione dall'altra parte l'Inghilterra con trovato poi il passaggio giusto Carvaio non ha problemi a respingere, traversa col pietra gestisce bene ancora il Portogallo con... ancora il tiro hanno trovato l'opposito... il... due giocatrici inglesi a deviare attenzione sola da... prosegue... l'Inghilterra ancora con Curnibarro c'è il gol, azione personale di Curnibarro e a otto minuti... l'Inghilterra ancora con Curnibarro... il... l'Inglesi avevano già centrato il gol in questa partita adesso lo trova però il Portogallo... l'Inglesi avevano già centrato il gol di Curnibarro l'intervento invece di Curnibarro... adesso un due contro due per l'Inghilterra... attenzione... la con... concretizzata da parte di... Rudy Peserma... ci riesce ora... Scarlett Curnibarro... e c'è il gol del... parte di... Rudy Peserma... all'otto... attenzione però l'Inghilterra... allora vuole avvicinarsi... vuole avere l'aschio... che arriva adesso... attenzione... al tiro di rigore... che arriva adesso... attenzione... al tiro di rigore... c'è il gol... il gol di... Lily Rose Chandler... 3... numero 7... dell'Inghilterra... e poi avete visto il tiro di rigore... realizzato... Dana... sopra la traversa... attenzione alla pallina che... giosta troppo in area... Anna Silva prova a superare Scarlett... Curnibarro... adesso la pallina... qui sta per Anna Fulgado... dalla distanza... Anna Silva... il tiro... la... unità buona... la lettura in fase difensiva di Anna Fernandez... che si fa tutta la pista... dall'altra parte ancora... la pagata... grazie a tutti... grazie a tutti... grazie a tutti... grazie a tutti...